ecco qua incendio incendio alla via del Gualandi a vedere il centro di Burtino proprio vicino al centro di Burtino quindi pericolo idrattati di paglia basta una sigaretta e la prende fuoco ecco qua l'incendio stanno per arrivare ecco lì vedete la polizia adesso arriverà anche, vedete le fiamme ecco le fiamme lì anche alte la polizia vedete si sta entrando dentro è in diretta praticamente cioè sono le ore 9.30, 9.40 stamattina ecco vedete le fiamme alte di fronte al Tiburtino, Ronix vedete i cani che abbaiono insomma non si scherza con questi incendi anche se è piccolino tra poco arriverà i giri del fuoco però insomma attenzione poi qui a Guidonia, ci prendiamo a Guidonia alle porte di Roma stiamo per andare a fare un servizio purtroppo su una notizia tragica quattro morti ragazzi in un incidente qui vicino a pochi chilometri adesso stiamo andando mentre andavamo abbiamo trovato questo incendio insomma io e il mio collega reporter stiamo andando a riprendere un po' quello che è successo il posto ma più per morbosità per far capire che non bisogna non bisogna morire in questo modo ecco va bene questo è l'incendio la polizia sta avvenendo anche verso sta ritornando indietro ecco i giri del fuoco e sono appena arrivati a questo punto allora ce ne andiamo arrivederci grazie